Meno casi di influenza registrati nelle festività ma non bisogna abbassare la guardia nelle prossime settimane arriverà il picco e all'ospedale di Piacenza è tutto pronto per fronteggiare un'eventuale emergenza. È stato infatti predisposto un reparto dedicato che entrerebbe subito in funzione. Al momento però non è in corso un'epidemia e rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso complice il clima mite e la chiusura delle scuole il contagio ha rallentato la sua corsa. Lo confermano anche i dati del rapporto epidemiologico InfluNet. L'incidenza di questa settimana è di 3,7 casi ogni mille assistiti. La curva della patologia si è arrestata virando verso il basso. L'unico mezzo per contrastare l'influenza resta il vaccino che deve essere effettuato da chi soffre di malattie croniche ma anche dai sani che in questo modo fanno da scudo ai più deboli. Sicuramente la vaccinazione rappresenta il vero scudo per il paziente rispetto all'epidemia influenzale. Bisogna che la popolazione si metta bene in testa che il vaccino è quello che ci preserva e che preserva la popolazione anche locale dalla diffusione del virus. I sintomi restano sempre gli stessi febbre alta, male alle ossa, stanchezza che possono essere contrastate attraverso una buona idratazione e riposo. L'influenza quando arriva è una malattia virale e che con una terapia sintomatica quindi un po' di paracetamolo con il caldo e idratandosi adeguatamente passa da sola. Chiaramente sono più a rischio i pazienti che hanno patologie soprattutto del cardiovascolare e respiratorio. Per questi pazienti, lo abbiamo detto più volte, è fondamentale la vaccinazione perché questi pazienti da un episodio influenzale potrebbero gravemente peggiorare le loro condizioni respiratorie e per questi pazienti se contraggono il virus in genere sviluppano problematiche importanti respiratorie e devono venire in ospedale.